Lei è sposato? Perché me lo chiede? Curiosità. Volevo solo sapere se è possibile avere dei legami con un lavoro di questo genere. Dipende. Come sarebbe? Dipende da chi ho davanti. A volte indosso questa. Se chi ho davanti ha bisogno che io sia sposato. Se invece chi ho davanti ha bisogno che io sia singolo, la poso. Sono ciò che il cliente ha bisogno che io sia. E in realtà lei cos'è?